I finanziari del reparto operativo Aeronavale hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara su richiesta dalla procura di un'area nella struttura polisportiva Iale. Sul sito illicitamente occupato da soggetti di nazionalità albalese è stata realizzata una trasformazione di lizia abusiva e sono stati smaltiti svariati quantitativi di rifiuti speciali tombati nel sottosuolo. L'esecuzione del provvedimento di sequestro costituisce l'epilogo di un'attività di indagine innescata dai finanziari della sezione aerea di Pescara. Gli elementi indiziari raccolti a carico dell'indagato hanno permesso di documentarne l'occupazione abusiva della struttura adibita a ex spogliatoio del campo sportivo Iale, gli abusi edilizie, l'illecita gestione di rifiuti in totale spregio delle norme di tutela ambientale del territorio. Relativamente agli aspetti ambientali e della salute dei cittadini a seguito dell'intervento è stata informata l'Arta per l'esecuzione della campionatura dei rifiuti rinvenuti e la successiva bonifica del sito sequestrato da effettuare a carico del trasgressore. Parallelamente i dati acquisiti dalle fiamme gialle sono stati trasmessi ai competenti enti ai fini della quantificazione degli importi dei tributi non versati per i conferimenti illeciti di rifiuti la cosiddetta ecotassa da addebitare al responsabile. Sul posto è intervenuto anche personale del gruppo Guardia di Finanza Pescara, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dell'Azienda Sanitaria Locale e dei Servizi Sociali e un rappresentante del Comune di Pescara.